Io esco, vado al bar. Vado a prendere Francesco a scuola. Vado al lavoro, però torno per cena. Sì, 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 due minuti arrivo. Vado a fare un giro con gli amici. Ah, le chiave li ho prese. Sì. Noi andiamo a girare il video. Ci vediamo dopo. Tu non hai paura? Di che? Di uscire. Ah, no. Perché devo avere paura? Mica siamo in guerra. No, vabbè, però se ci pensi... Tu non ci pensai. Ma perché tu c'hai paura? No, no, vabbè. E come hai detto tu, mica siamo in guerra. E se invece... No, non ricominciare, non siamo in guerra. Va bene. E come dici tu, siamo in guerra. Però questo non ti autorizza ad aver paura. No, no, no. Siamo solamente in guerra. E allora, se siamo in guerra, noi siamo i soldati. E i soldati mica c'hanno paura. No. Pesta alta, petto in fuori, schiena dritta, coraggio soldato. Ma calma, è una metafora, mica siamo in guerra, veramente. A prescindere, nessuno ha paura. Nessuno. Li senti? Posso avere paura adesso? No. No, è adesso che bisogna fare i soldati. Avanti, su. Allora, petto in fuori. Schiena dritta, testa alta. Faccia in faccia. Io non ho paura. Io non ho paura. Io non ho paura. Io non ho paura. Più forte, io non ho paura. Io non ho paura. Io non ho paura. Io non ho paura. Nessuna paura. Nessuna paura. Nessuna paura.